Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube, nuovo video a tema film. È uscito su Disney Plus il 30 di settembre, un film che io personalmente attendevo molto, sebbene comunque avessi leggermente la paura nel mio corpo, perché è il seguito di un film che ha segnato la mia infanzia. Ci ho fatto anche lo speciale di Halloween dell'anno scorso, quindi mi raccomando, poi ve lo lascio nelle schermate finali, andate a vederlo perché almeno tutti una volta nella vita devono vedere quel film. Quando avevo saputo che avrebbero fatto un seguito, devo ammetterlo un pochino. Mi sono intimorita, proprio ho visto il trailer, il trailer sembrava carino, quindi mi sono detta, ma sì, diamogli una possibilità e facciamoci segno della croce come sempre. Oggi vi parlo di Hocus Pocus 2, film del 2022, disponibile appunto su Disney Plus e che riprende, diciamo, gli eventi che sono successi, anzi neanche tanto, diciamo che è una storia a sé stante, ma comunque con dei riferimenti a quello che è accaduto 29 anni prima nel primo film, ovvero Hocus Pocus, e devo ammettere che è stata una visione divertente e leggera, esattamente come mi aspettavo. Come sempre vi avviso potrebbero esserci spoiler per quanto cercherò di non farne, quindi se siete quelle persone che non vogliono neanche tanto così, altrimenti mi insultate i cugini fino alla dodicesima generazione, vi invito a rimandare la visione del video e a tornare quando avrete visto il film. Se invece gli spoiler non mi fanno nessun tipo di effetto o volete semplicemente godervi un mio video, allora buona visione a tutti. Come sempre prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale, e soprattutto seguirmi su Instagram, link in descrizione, dove troverete anche il link per seguirmi su TikTok, quindi mi raccomando vi aspetto anche lì, ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video. Se chiamate The Walking Dead vi ricordo che in descrizione trovate i link delle pagine Facebook, Karel Italia e The Walking Dead ItaFamily, adesso ricominceranno i commentari durante la settimana degli episodi, visto che è ricominciata la terza e ultima parte, e The Walking Dead ItaFamily è una pagina con cui collaboriamo, super informata insieme a Karel Italia di tutte le cose che riguardano la serie, quindi mi raccomando andate a seguirli. Questo film esattamente come il primo ha un'aria un pochettino diciamo infantile, cioè studiata per un pubblico giovane, per un pubblico di ragazzini, bambini, esattamente appunto come il primo film, quindi quelli della mia generazione che magari non hanno mai visto il primo, potrebbero sentirsi leggermente, non dico a disagio, ma comunque abbastanza straniti nel guardare questo film. Io per esempio ho 36 anni, però sono tra quelli che hanno visto il primo film quando ero ragazzina, quindi conseguenza a me l'effetto nostalgico ha toccato, nel senso se volevano puntare anche su quello, su di me ha fatto effetto, perché devo ammettere che rivedere le tre sorelle Sanderson mi ha dato comunque un brivido e soprattutto con questo secondo film abbiamo l'opportunità di esplorare il passato delle tre sorelle, perché appunto loro vivevano a Salem, ma loro diventano streghe. Noi io pensavo che loro lo fossero già, perché comunque quando è iniziato il primo film, sebbene comunque loro vivessero lontane dalla società, noi non sapevamo se effettivamente erano già streghe o quant'altro, invece qua ci viene chiarito che dopo una roccambolesca fuga dalla comunità con questo parroco, questo pastore, che vuole a tutti i costi far sposare Winifred con un tizio, e poi qui abbiamo l'opportunità di vedere anche un giovane Billy Butcherson, che tecnicamente non è l'amato di Winifred, si sono scambiati solo un bacio probabilmente perché lui era ubriaco, le tre sorelle scappano perché appunto vogliono portarle via Winifred, le due sorelle minori, e nella foresta proibita incontrano quella che sarà effettivamente la loro strega madre, ovvero quella che dona a Winifred il libro degli incantesimi, quello con l'occhietto vispo per intenderci. Quindi abbiamo l'opportunità di capire come effettivamente queste tre streghe siano diventate una delle congreghe più potenti degli ultimi secoli. Qui appunto diciamo che hanno cambiato un po' il messaggio di fondo, nel senso mi spiego, nel primo film era molto importante il legame tra fratello e sorella, comunque tra sorelle, perché appunto Tackeribinx era morto cercando, anzi sì era stato trasformato in gatto, scusate, per impedire che uccidessero la sorella, cosa in cui poi ha fallito. Max era appunto molto, era legato a sua sorella Dani, però comunque la trattava un po' come una piccola peste, e quindi era un po' una zecca, possiamo dire Dani, però lui alla fine le voleva bene, e infatti poi lui ha rischiato il tutto e per tutto per salvarla, perché il legame tra fratello e sorella è indissolubile. E qui appunto abbiamo l'opportunità anche di studiare meglio il legame che unisce le tre sorelle Sanderson, perché nel primo film si è stato esplorato, però diciamo che, e anche in questo film succede, Winifred è un po' la sorella alfa, che tratta le altre due, un po' come se fossero insetti, anzi, in questo film arriva addirittura quasi anche a definirle degli scarafaggi, loro niente, loro appunto stanno zitte, non dicono niente, arrivano fino a un certo punto a farsi rispettare, ma alla fine Winifred le rimette in riga. Però adesso ci arriviamo, perché questo discorso poi va a ricollegarsi al finale, di cui vi parlerò appunto dopo. C'è questa giovane sedicenne, Becca, che ha due amiche del cuore, di cui purtroppo allora una si chiama, oddio, aspettate che vado a cercarmi i nomi, poi torno. Ecco come sono cercati, sono Isi e Cassi, no, ho dei problemi, non ci sta più niente qui dentro ragazzi, però con Cassi hanno preso un po' di distanze, perché lei appunto è la classica amica, che dopo che si è fidanzata, diciamo che ha sfanculato un po' le sue amiche, per quanto non fosse sua intenzione, loro tre erano un gruppo inseparabile, che praticavano anche dei rituali wicca, li possiamo chiamare così, e appunto stai a Salem, giustamente, non puoi non praticare rituali wicca, pacifici e tranquilli, come fanno loro. E appunto il sedicesimo compleanno di Becca, e vanno al negozio di magia di Gilbert, in cui Gilbert sta appunto narrando la leggenda delle sorelle Sanderson, in cui vediamo anche dei frame, del primo film in cui le sorelle Sanderson uccidono la sorella di Takeri, come vengono impiccate, come maledicono, diciamo, Salem, e appunto lui poi narra come nel 29 anni prima siano state viste girare in città per poi scomparire di nuovo. Gilbert appunto è un personaggio, diciamo che è un po', non dico, è chiaramente interessato alla magia e ci sa fare, però è un pochettino, diciamo, la componente comica della situazione, chiamiamola così. E Gilbert appunto, che conosce bene le ragazze, perché sono le sue clienti più affezionate, regala a Becca una candela speciale per appunto il rituale dei 16 anni. Le due ragazze appunto vanno nella foresta proibita e pronunciano questo rito. Il problema è che accendendo la candela regalata di Gilbert scoprono che è una candela della fiamma nera. E voi vi ricordate cosa succede quando una candela della fiamma nera viene accesa? Nel primo film la accendeva Max convinto che fosse una bufala e invece poi sticazzi quel ragazzo, visto che era adolescente e vergine, ha riportato in vita le sorelle Sanderson. In questo caso, 16enne, vergine, accende la candela della fiamma nera e tac, le tre sorelle sono tornate sempre magistralmente interpretate da Beth Midler, Sarah Jessica Parker e Katina Jimmy che devo ammettere quella donna lì ha fatto una dieta della Madonna perché si vede che è dimagrita tantissimo. Perché nel primo film era appunto paffutella, ciocciottina, sempre carina, però si vede che comunque l'età le ha fatto perdere peso, insomma, probabilmente anche per altri. Comunque va bene, sta benissimo, sono tutte e tre informissime. La Sarah Jessica Parker sembra non essere cambiata di una virgola da quando interpretava Sarah 29 anni fa e la Beth Midler è sempre, veramente sì, la parte di Winifred Sanderson sembra essere stata cucita per quella donna lì. E qui appunto abbiamo le due ragazze che cercano di destreggiarsi in degli stratagemmi e qui possiamo vedere le sorelle Sanderson anche alle prese con l'epoca moderna perché comunque nel 1990 29 anni fa sì, la tecnologia c'era ma non era ai livelli di adesso, adesso abbiamo i social media, abbiamo le porte scuole, si spaventano di fronte loro. Che cosa fanno queste ragazze? Convincono le sorelle Sanderson che adesso ci sono dei filtri di bellezza, delle creme e comunque cose così che vengono create usando le anime dei bambini non c'è più bisogno di andare a mangiarsi le anime dei bambini adesso trovi tutto in negozio cioè è fantastica questa cosa e le portano appunto in questo supermercato in questo store e si spaventano davanti a una porta scorrevole e pensano che sia magica cioè una roba allucinante e sono lì queste cose a un certo punto con la loro camminata magistrale in tre ve la ricordate? È diventata leggenda quella camminata e quindi di conseguenza le vediamo che si mangiano creme si spruzzano in bocca gli spray di tutti i tipi e arrivano addirittura delle ragazze vestite come loro che si fanno un selfie e vogliono proprio stare anche a fare il labbrino devo ammettere che hanno puntato molto sulla simpatia e va bene perché anche nel primo film anche nel primo cioè l'atmosfera del primo film comunque hanno cercato di ricrearla sebbene comunque nel primo si mantenesse comunque quell'aria un po' cupa tipica di Halloween sarà che appunto questo film l'hanno fatto uscire anche abbastanza distante da Halloween infatti io speravo che uscisse il verso la fine di ottobre così da farne lo speciale di Halloween ma ahimè non sono stata accontentata quindi di conseguenza le due poi alla fine grazie a un commesso cretino le telescopie sono state ingannate ma le due ragazzine riescono a proteggersi con il mitico cerchio di sale e quindi di conseguenza adesso cosa vogliono praticamente alla fine cosa si scopre che Gilbert l'ha fatto apposta a dare a Becca la candela della fiamma nera perché lui voleva riportarle in vita perché secondo lui quelle tre streghe non sono state comprese erano al di là pensavano erano avanti con i tempi papin papera no figlio bello se tu avessi vissuto quello che hanno vissuto quei tre poveri ragazzi nel primo film forse ti saresti ricreduto perché queste tre sono chiaramente degli mostri che vogliono mangiarsi delle fottute anime di bambini infatti quando le tre sorelle arrivano per recuperare il libro degli incantesimi Gilbert vedendo che si girano le due ragazzine in un cazzo di seminterrato per l'eternità comincia a rendersi conto di aver fatto la vaccata però cosa succede intanto trovano il libro però qui l'obiettivo cambia nel senso che qua non hanno messo e qui si è stata contenta la tiriterra dobbiamo mangiarci più bambini possibili per rimanere giovani e belle vivere per sempre no qui hanno in mente di fare un incantesimo super overpower che le renderà potenti e immortali per sempre però la strega madre aveva dato loro un avvertimento che quell'incantesimo non avrebbero mai dovuto farlo perché richiede un enorme prezzo da pagare però a quanto pare Winifred se ne sbatte i coglioni della promessa che ha fatto e anche il libro cerca di impedirle di farlo però che cosa fanno queste tre queste tre insomma Winifred alla fine è Winifred la protagonista della pellicola perché diciamo che qui si mantiene la tradizione che Sara e Mary sono un po' di contorno sono un po' la componente comica sono le due rimbambite chiamiamole un po' così e cosa fa Winifred? incanta la clessida delle Sanderson in modo che Gilbert sia costretto ad aiutarle a trovare gli altri ingredienti e tra questi c'è appunto la testa dell'amato ovvero quella di Billy Batcheson che però dice io non sono l'amato di nessuno io le ho solo dato un bacio in un momento di follia io non ho mai amato Winifred quindi qua viene appunto alla luce la verità appunto su Billy Batcheson che ha interpretato sempre la Doug Jones che l'ha interpretato anche nel primo film se non ricordo male aspetta che controllo ma penso penso proprio di sì adesso sto andando a vedere ma penso ma sì sì infatti l'ha interpretato anche nel primo film quindi questo è anche questa è una cosa molto bella che si è tornato a interpretare comunque questo ruolo molto divertente molto simpatico e nel frattempo le Winifred scoprono che il sindaco ovvero adesso sto guardando aspetta che guardo guardo no devo guardare ragazzi perché comunque sono in aria il reverendo Trasche cioè il sindaco Jeffrey Trasche è un antenato del reverendo che le voleva separare e quindi di conseguenza siccome serve anche il sangue del nemico per l'incantesimo decidono di andarlo a cercare e qui non può mancare la canzone incantatrice di Rito però stavolta è tutto trasformato in un flash mob in cui questi poveri disgraziati ballando cercano il sindaco su ordine di Winifred nel frattempo le due ragazze sono intrappolate e cercano di contattare la loro amica ovvero Cassi però non ci riescono perché Winifred ha appunto un incantesimo che nel seminterrato nessuno l'avrebbe mai vista né sentite grazie a della polverina che hanno preso appunto da Gilbert e infatti vediamo che qua Becca comincia a sviluppare le sue capacità di strega riescono a liberarsi dall'incantesimo e corrono in soccorso dell'amica e del padre il sindaco è anche abbastanza simpatico lui sta facendo la coda per questa benedetta mela candita ma riceve una telefonata delle due amiche della figlia che cosa volevano fare volevano che lui tornasse a casa in modo da poterlo avvertire e portarlo via però purtroppo così non è stato e lui è andato ha sorpreso la figlia a fare una festa e poi è tornato e non è riuscito a prendersi questa mela caramellata poverino che pena immonda nel frattempo appunto le sorelle Sanderson arrivano a casa di Cassi con appunto Becca e Easy che l'hanno raggiunta e qui creano un forte cerchio di sale che intrappola le due ah non vi ho detto una cosa vi ricordate la famosa scena del è ora di volare ve la ricordate se avete visto il primo film sicuramente qui c'è stato un upgrade per alcune cose perché se vi ricordate nel primo film Winifred aveva la scopa normale Sara a un certo punto perché poi le scopre le perdono durante il primo film Sara aveva trovato un mocio mentre Mary scusate ha avuto un lapsus aveva l'aspirapolvere qui hanno fatto un upgrade Winifred ha sempre la scopa l'aspirapolvere con il che non fa le bolle l'hanno dato a Sara e a Mary hanno dato dei cazzo di umba che hanno vita propria libidine libidine una libidine coi fiocchi una roba allucinante lei che sta su sti rumba in aria io poi non l'ho preso troppo sul serio questo film non sono stata lì a fare paragone o quant'altro me lo sono goduto semplicemente come un sequel che ha voluto puntare sulla nostalgia e ammetto che con me ci sono riusciti comunque sia ecco appunto mentre le hanno intrappolate nel cerchio di sale loro spiegano la situazione alla sua amica nel frattempo arriva anche il fidanzato che è un po' lo scemo del villaggio appunto e che cosa succede come fanno le tre sorelle a liberarsi penserete voi arrivano i due cazzo di rumba che si mangiano il sale e le streghe decidono di rapire Cassie perché comunque ha il sangue del loro nemico quindi va benissimo lo stesso come surrogato e le due Becca e Isi corrono subito a salvare l'amica giustamente nel frattempo appunto c'è Gilbert che al seguito di Billy cerca che poi l'ha anche ingannato gli ha fatto credere voglio fare un incantesimo per sconfiggere quando non è vero quindi Gilbert ruba la testa di Billy e Billy con il corpo che lo segue poverino perché rivuole la sua testa arriva dalla foresta proibita e Gilbert giustamente pensando di essere salvo in realtà viene scaraventato via e qui appunto inizia il rito il rito della magia massima e mentre lo stanno facendo che poi vengono interrotte Sara e Mary vengono insomma gli aumentano i poteri quindi di conseguenza cercano anche di ribellarsi a Winifred ma non ci riescono lei subito che li rimette in riga però qui abbiamo una scena interessante perché a un certo punto Becca capendo di avere appunto dei poteri scoprendo di essere anche lei una vera strega riesce a convincere il libro degli incantesimi a scegliere lei perché il libro è ben conscio di quello che dovrà fare che dovrà sacrificare Winifred per avere i poteri super overpower insomma anche Cassie viene liberata le tre scappano e riescono a proteggersi unendo le loro forze condividendo la magia e qui appunto abbiamo il concetto di congrega le tre ragazzine riescono a tenere testa alle Sanderson perché sono unite da un'amicizia profonda e invece le Sanderson per quanto siano sorelle non sono propriamente legate tra loro perché è Winifred la femmina alfa quindi di conseguenza Winifred le tiene in scacco le tiene le considera anche le dice proprio sono dei parassiti e loro non dicono niente quindi non hanno quel legame che le unisce profondamente fino alla fine perché se avevamo diciamo io avevo anche il dubbio che avrebbero dato la classica redenzione che ultimamente la Disney dà ai cattivi nel live action tranne a Scarca del re leone a Scelecan del libro della giungla grazie a Dio non se ne ameritavano quelli una cazzo di redenzione qui appunto Winifred riesce a portare a termine l'incantesimo anche senza il libro e Becca capisce qual è il costo per quell'incantesimo quindi corre dalle sorelle Sanderson e in quel momento appunto Winifred che è diventata super overpower vede le sorelle scomparire perché era quello il prezzo dell'incantesimo ovvero perdere ciò che ti è caro quindi è l'incantesimo stesso a far rendere conto a Winifred di quanto fossero importanti per lei le sue sorelle qui appunto il messaggio di fondo è più o meno lo stesso nel primo film ma analizzato dal punto di vista delle Sanderson perché se nel primo film l'avevano lasciato un po' a morire il loro legame qui invece lo concretizzano quindi Winifred capisce che la sua congrega era quello che era grazie alle sue sorelle adesso invece è da sola infatti lei soffre come posso rimediare si può rimediare a quello che ho fatto e il libro mostra a Becca un incantesimo che però non riporta in vita le due sorelle sti gran cazzi ma permette a Winifred di raggiungerla e Winifred è contenta e serena di potersi riunire alle sue sorelle perché il potere non valeva la vita delle due persone che alla fine erano importanti per lei ed erano comunque la sua famiglia con cui le ha fatte di cotte e di crude insomma le sorelle Sanderson spariscono e questa volta sembra definitivamente il libro degli incantesimi sceglie Becca come nuova padrona Gilbert è sano e salvo anche Billy sparisce perché essendo che le sorelle sono sperate del tutto quindi è sparito anche l'incantesimo che l'ha riportato in vita quindi questa volta speriamo che questo poverino possa riposare in pace le tre ragazze se ne vanno finalmente per festeggiare il compleanno di Becca anche loro con la camminata alla Sanderson poi c'è titoli di coda con le tre attrici delle sorelle Sanderson che cantano una canzone e poi dopo i titoli di coda c'è questa scena con il gatto nero che non è Binks ma il gatto nero di Gilbert che a quanto pare ci mostra una scatola con un'altra candela dalla fiamma nera io francamente spero che non facciano un terzo film e che le facciano tornare di nuovo perché? perché si cascherebbe nel ripetitivo già hanno fatto questo seguito e va bene come ho detto è un seguito carino tranquillo divertente piacevole da guardare nostalgico per chi ha amato il primo film per le nuove generazioni di giovani va benissimo recuperate il primo e il secondo perché sono disponibili tutti su Disney Plus fatelo perché veramente dovete vederli almeno una volta nella vita sia il primo anche questo secondo devo dire che diciamo che merita non è un brutto film è un film ideale per passare un'ora e quaranta a divertirsi a guardare magie e casini vari però non spremere succo da un limone che comunque era già arido non è una buona idea magari se ci mettono in mezzo perché comunque adesso la congrega cioè ci sono le tre ragazzine però la candela della fiamma nera è legata alle Sanderson quindi io spero vivamente che non le facciano tornare un'altra volta perché sennò veramente io mi aspetto che le Sanderson diciamo ma avete finito di cagarci il cazzo ma allora volete proprio morire volete proprio che vi ammazziamo cioè io me lo aspetterei quindi spero ovviamente che non abbiano intenzione di fare un terzo film perché francamente non ci sta hanno già fatto questo va bene il cerchio si è chiuso le sorelle Sanderson sono in pace sono insieme non andate più rompiti i coglioni basta basta quindi spero ovviamente che non pensino di fare un terzo film se questo ha avuto successo basta così o magari potrebbe potrebbe essere magari qualcosa di originale la candela della fiamma nera che riporta in vita la strega madre quello sarebbe interessante vedere le tre ragazzine che affrontano la strega madre con magari qualche apparizione così sporadica di Winifred e delle sorelle però a livello sporadico a livello onirico magari anche tipo che le tre ragazze fanno una seduta un incantesimo per evocare le sorelle e farsi spiegare come sconfiggere questa megera questo già mi andrebbe un pochino medio sarebbe già più originale ma spero che non vada a romper i coglioni un'altra volta le sorelle Sanderson perché sennò veramente io se fossi Winifred allora che cazzo veramente volete morire fatevi sterminare non rompeteci più i coglioni porca puttana quindi come ho detto nel complesso è stato un film carino un seguito magari non necessario però comunque piacevole da guardare non si vedeva che non era un film che aspirava a diventare un nuovo cult ma che voleva semplicemente omaggiare il primo film e regalare ai nostalgici la magia di esso e comunque far conoscere questo universo anche alle nuove generazioni quindi è stato divertente è stata una visione piacevole che mi ha strappato risate che mi ha strappato dei sorrisi e parecchia nostalgia quindi se ancora non avete visto tutto il primo film guardatele poi guardatevi questo secondo oppure con i vostri figli perché secondo me ne vale la pena se siete come me della generazione che ha amato il primo film posso assicurarvi che almeno a me questo secondo film vi piacerà davvero davvero tanto bene questo video si conclude qui se vi è piaciuto mi raccomando mettetemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti ragazzi le vostre impressioni se l'avete visto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto perché non vi è piaciuto mi raccomando i commenti aiutano l'algoritmo a spingere il video e poi mi piace comunque sentire anche le vostre opinioni sentire i vostri pareri ascoltarvi leggervi insomma quello che è quindi mi raccomando fatemi sapere voi cosa pensate di questo seguito se siete tra quelli come me che hanno amato il primo e hanno trovato questo gradevole se non conoscete questi film magari grazie al mio video andrete a recuperarveli su Disney Plus se non vi è piaciuto perché non vi è piaciuto se lo considerate inutile insomma ragazzi mi raccomando fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti che ci tengo vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti non vabbè ma la scena di Rumba cioè quella scena lì va va Mary sui Rumba vale tutta la visione del film c'è poco da fare ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti